Grazie a tutti Sì. Vengono anche i poverizi. Sì. Vengono le compagnie da Catania, l'imam di Catania, palestinese. E dove siete? Piazza Duomo, alle quattro. Capite l'ora? Ah, ti posso inguadare? Te la riprendo io, te la ripendo nella prima fine. Non si posso andare. Te la ripendo in prima fine. Ma sai, quella rivoluzionaria qua? Ma? Adesso è parte ma... Non è vero che si scioglie, non lo sa bene. 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 È un Mario Arcade! Come? Non lo sa bene. Non lo sa bene. Grazie a tutti.